Servizio Cure di Acamir e Regione Campania Sulla Statale 19 delle Calabrie, sino alle ore 18 di venerdì 10 agosto, per lavori di manutenzione, troverete attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in località Atena Lucana. C'è il senso unico alternato attivo anche sulla Statale 85 Venafrana, Trava, Erano Scalo e Presenzano, fino al prossimo 4 agosto, nella fascia oraria 7.30-18.30, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Qui i lavori vengono effettuati in tratti saltuari. E sulla Statale 145 Sorrentina, dalle 22 di stasera e sino alle ore 6 di domani mattina, per consentire i lavori di manutenzione agli impianti di ventilazione e illuminazione, viene chiusa al traffico la Galleria Santa Maria di Pozzano, in tutte e due i sensi di percorrenza. Qui il flusso veicolare è deviato sulla viabilità urbana del comune di Vico e Quenze. Sulla tangenziale di Napoli, vi ricordo che sino alle ore 23 di venerdì 27 luglio, ancora per lavori di manutenzione, è chiuso al traffico lo svincolo Italia 90 in ingresso, sia verso Pozzuoli che in direzione Capodichino. Lo svincolo d'ingresso alternativo consigliato è quello di Agnano. Infine sulla tangenziale di Salerno, lavori notturni, dalle 22 di stasera alle 6 di domani, troverete chiuso al traffico il tratto compreso tra gli svincoli Sala, Bagnano e Fratte, in direzione nord. È tutto dalla redazione Muoversi in Campania, un saluto da Gigi Gallo.